Oggi volevo solo dare la mia breve opinione sul match Scardina De Carolis. Premesso che conosco tutti e due, conosco sicuramente meglio Giovanni, ci ho pure fatto dei video insieme, quello che girava a Roma come voci era che Giovanni avrebbe vinto. Io personalmente non mi sono pronunciato, innanzitutto perché conoscendo entrambi e comunque facendo pochissimi video e pugilato in questo periodo, ho evitato di fare il mio pronostico, di dire vincerà quello, vincerà quell'altro, e l'altra perché nel pugilato non si può mai sapere come va a finire, indipendentemente dall'età, indipendentemente dal numero di match, indipendentemente da quello che poi ti vanno a dire. Perciò se vi interessa restate, vi dico quattro cose in croce relative a sto match, altrimenti fate una cosa, compratevi un bel paio di guantoni e schiaffatevi tra le chiappe. Sarei dovuto anche io andare a vedere il match, poi per impegni, cose e altro non sono andato. Un match finalmente fatto bene. Per la prima volta si scontrano due personaggi che fanno parlare di loro. Da una parte Giovanni De Carolis con più di 40 match, e dall'altra Daniele Scardina con più di 20 match. E già questo suona strano perché Giovanni ha il doppio dei match e ha anche un titolo mondiale. Daniele ha la metà dei match e ancora non aveva titoli particolarmente forti come un titolo mondiale VBA. Però al di là di questo c'era un po' di differenza d'età. Qualcuno diceva, eh ma Giovanni è qua, è stanco, è vecchio, Daniele è fresco, è giovane, e viceversa ho sentito altre voci che poi erano sempre di parte, chi di Roma e chi di Milano, che diceva il contrario, Giovanni è un campione, Giovanni conosce il sacrificio, eccetera. Però il pugilato, al di là di tutto quello che si può fare, c'è anche la fatalità dei colpi. Ti può andar bene, ti può andar male, ma a un certo punto arriva un colpo che può far male e potrebbe destabilizzarti sia mentalmente che fisicamente. In realtà questo match è stato abbastanza a senso unico perché banalmente tutte le riprese erano a favore di Giovanni e la conclusione è stata ovvia. Il problema qual è? Non è il match in sé, è che alla fine del match si sono scatenate le tifoserie, quelli che stavano dalla parte di Giovanni, giustamente una persona umile, corretta, veramente un pugile che si sacrifica sempre e che non vorrebbe, secondo me, che ci fosse una tifoseria, che neanche credo sia la sua tifoseria, ma sono i classici scureggioni da tastiera, chiamiamoli così, che hanno iniziato a inveire contro Daniele Scardina. Perché hanno iniziato a inveire contro Daniele Scardina? Blef, Daniele è qua, hai visto, ti sei divertito, hai fatto e mo' hai preso la sveglia. Non è corretto neanche questo. Allora, Giovanni si è allenato e si è sacrificato, ma altrettanto Daniele dall'altra parte si è allenato e si è sacrificato. Poi, se Daniele fa più foto mondane, magari con ragazze, con personaggi famosi o altri, e cura i social in un certo modo, non è una cosa negativa, perché è stato questo a portare tanto pubblico a vederlo. Questo odio represso che ha questo pubblico del pugilato, questa fetta di pubblico del pugilato, è il male del pugilato, parliamoci chiaro. Perché due persone hanno combattuto, non si sono risparmiate, uno è stato più forte, uno è stato più debole, uno ha vinto, uno ha perso. E che vi aspettavate? Che il match finiva esattamente pari? Assolutamente no. Però dall'altra parte compaiono questi menacrami, questa gente, ti sta bene, ti sta qua. Questo è il male del pugilato ed è anche uno dei motivi per i quali faccio pochi video di pugilato. Perché spesso questa fetta di pubblico di pugilato, che è piccola, ma maligna, non fa altro che cercare di denigrare qualsiasi cosa. Probabilmente soffriranno dei complessi di inferiorità, probabilmente non ci hanno altro da pensare. Ed è molto male. Per il resto, tutto l'altro pubblico, quello che ha acclamato, quello che comunque, nonostante Daniele abbia perso, l'ha comunque ringraziato, è un altro discorso. Perché ricordiamoci una cosa, c'è sempre qualche cretino pronto a scrivere qualche commento maligno, sballato, stupido, eccetera. Però ci sono tante persone che in silenzio poi seguono il pugilato ed è questa cosa più importante. Che anche quelle persone che seguono il pugilato commentassero, facessero vedere la loro presenza e schiacciassero quei pochi fessi che vogliono il male di qualcuno o di qualcun altro del pugilato in genere. Perché quella è sicuramente la cosa più importante. Detto questo, sono contento che c'è stato questo match. Era un match diverso finalmente dal fatto di fare con i classici stranieri, con laudatori, personaggi che generalmente ci portiamo in Italia perché i budget non sono chissà che e una volta che si sono scontrati due pugili che provengono da due città molto importanti tra cui Roma e Milano e che avevano una tifoseria molto attiva cioè è inutile che ci stiamo lì a fare dopo il discorso hai visto un bluff no regà ognuno si è sacrificato ognuno ha combattuto ognuno ha dato il meglio di sé ed è questa la cosa più importante del pugilato evitiamo questa fase di denigrazione questa fase di odio questa fase brutta che c'è poi nei confronti di chi perde o di chi magari aveva tanta visibilità e pertanto veniva visto come un personaggio negativo perché anche la visibilità è importante nel pugilato poi il risultato sportivo è un altro discorso però per creare tutta questa struttura tutta questa cosa è necessario che se ne parli speriamo di parlarne meglio speriamo che se ne parli bene e evitiamo giustamente tutte quelle vociacce che rompono le scatole detto questo vi ho detto brevemente la mia opinione niente di che nulla di nuovo sotto il sole però visto che ci tenevo a dire queste quattro parole ve l'ho dette e vi saluto ciao